E' bello, eh? E' molto bello. Ma in un modo molto cauto, molto tranquillo, senza dire io sono qua perché è il prodotto che deve vedersi, non noi. Questa è la base, no? Perché loro hanno diversi tipi di prodotti, hanno dalle cucine all'imbottito, doveva funzionare sempre, qualsiasi prodotto loro volessero esporre lì, doveva funzionare. E' la scelta dopo dei materiali, la combinazione dei materiali, che è sempre molto complicata perché a volte hai un materiale molto bello, che ti piace molto, ma che quando lo combini non funziona. Fa vedere dentro dello spazio. Le trasparenze, questa è un'altra parte del concetto molto importante. Abbiamo una parte esterna con un cortile che noi volevamo enfatizzare in qualche modo perché è molto milanese allo stesso momento, no? E questo ci portava luce e vita attraverso questo. È molto importante, no? Di vedere già dall'ingresso, dalla strada, vedere questa trasparenza e che vedi il verde del cortile. Il vetro è stato scelto per le trasparenze. Noi non volevamo creare un blocco tra ingresso e cortile. Quello che volevamo fare è lasciare tutto lo spazio in modo di dare ampiezza, ma renderlo un pelino più festivo. Per quello abbiamo scelto un colore ambrato, che è molto elegante e che funziona molto bene con tutti questi colori che abbiamo nel pavimento. È stato molto difficile arrivare a questo colore perché abbiamo fatto, non so, 3000 prove più o meno, fino ad arrivare al colore che volevamo. È un sandwich, è un vetro stratificato, ma che alla fine penso che viene un colore molto elegante, molto semplice, ma comunque molto elegante. Tutta questa combinazione di colori che troviamo qua, in realtà appartiene a quello che sarebbe il materiale che ci troviamo in bagno. La ceramica bianca sta perdendo colpi, è un pelino più raffinato, la rubinetteria è in nero, per dare, anche se sono bagni molto piccoli, comunque sono veramente belli, molto carini, molto curati. Perché anche il cliente che arriva lì, attraverso questi dettagli, anche attraverso il bagno, volendo, vede la qualità dell'azienda. Benvenuti a questo incontro dedicato all'arrivamento al design. Siamo nel nuovo spazio di Euromobile, società fondata quasi 50 anni fa in Veneto, che oggi inaugura ufficialmente il suo flagship store nel cuore di Milano. Noi siamo in compagnia con alcuni ospiti, Matteo Tum, la mia sinistra, architetto e designer di Chiava Fama, che insieme a Antonio Rodriguez hanno ideato questo spazio. Il loro studio, Antonio Tum in Milano, collabora con i marchi più prestigiosi, tra cui il gruppo Euromobile, e collabora da oltre 30 anni con il gruppo Euromobile, Roberto Gobbo, a mia destra, è un architetto, director dei prodotti di Euromobile, appunto, oltre a Euromobile, Desiree e Zalf. Idea i prodotti, ma anche l'allestimento degli showroom e delle fiere italiane e internazionali. E proprio da Roberto Gobbo iniziamo e chiediamo come mai avete sentito questa esigenza di aprire una finestra, uno spazio così importante in un'arteria così chiave per il design italiano qui a Milano? Beh, Milano è la capitale del design nel mondo. Quello che succede a Milano durante il Salone del Mobile in aprile, purtroppo quest'anno, non c'è stato per le ragioni che tutti conosciamo, è un evento straordinario e tutto il mondo ci invidia a questo evento. I fratelli Lucchetta, che sono i fondatori di gruppo Euromobile, da parecchio tempo avevano questo obiettivo, cioè creare uno spazio che fosse fortemente rappresentativo dell'azienda, dei valori aziendali e di conseguenza del prodotto. Questa situazione si è creata un paio d'anni fa, dovevano convergere tre situazioni, tre condizioni. La prima è che lo spazio fosse in una certa area della città, ci sono come è noto aree del design a Milano, che lo spazio fisico si prestasse come metratura e anche come fisicità, come volumi a contenere il prodotto, e poi una terza condizione che era ovviamente la sostenibilità economica. Questa situazione si è creata appunto e poi l'azienda ha pensato di dare il progetto di questo spazio, del contenitore, allo studio appunto Matteo Thun e Antonio Rodriguez, studio con il quale l'azienda già da qualche anno collabora a dei prodotti per Desiree Divani. L'obiettivo di questo spazio è che, oltre che appunto rappresentare in maniera compiuta e completa la produzione soprattutto di Euromobile, ma in realtà poi ci sono delle piccole contaminazioni di Zalfa Mobili e Desiree Divani, l'obiettivo era quello di creare uno spazio dinamico, dove possono accadere anche degli eventi durante l'anno, soprattutto in parallelo al Salone del Mobile, ma anche in altri momenti dell'anno. Oltretutto l'obiettivo appunto è che, intanto in questo spazio c'è una cucina funzionante, quindi si potranno realizzare degli show cooking, ma anche presentare delle pubblicazioni di design o appunto di arte. Su questo tema poi c'è tutto un ragionamento che si potrà fare del rapporto arte e gruppo Euromobile. Vorrei dire un'ultima cosa, che il gruppo Euromobile è una bellissima storia di imprenditoria italiana, nata nel nord-est negli anni 60-70, sappiamo che il nord-est è stato interessato in quel preciso momento da un progresso notevole che ha creato un modello internazionale e grazie appunto alla lungimiranza e alla determinazione dei fratelli Lucchetta è nato un gruppo importante, oggi è un gruppo che nel mondo del design ha una chiara visibilità e una chiara forza. Tuttora il gruppo è condotto dai fratelli Lucchetta. Un caso familiare, un caso di successo. È a voi il mandato di progettare questo spazio. Come avete pensato agli ambienti, come li avete suddivisi, se sono suddivisi? Prima di tutto erano due botteghe, una a sinistra di questa linea, una a destra, era la possibilità di lavorare su un contenitore che rispettasse il contenuto. Quindi il vero tema è quello di analizzare il DNA del marchio Aeromobile per definire un contenitore il più anonimo, il più neutro possibile. E devo dire che Antonio insieme ad Elisa dello studio hanno fatto un lavoro fantastico perché hanno rispettato oltre al DNA del marchio anche il DNA della zona, del territorio. E questo spazio, ci sono dei concetti chiave attorno a cui avete ideato? Ce li potete raccontare? Vabbè, soprattutto la neutralità. Come diceva prima Matteo, qua noi dobbiamo vendere un prodotto, non vendere lo spazio o il nostro studio. Allora, cercando quella neutralità, perché teniamo conto che qua vendono, il gruppo Aeromobile ha cucine, ma ha anche imbottiti, ha anche cabine armadio. E sicuramente questo dovrà cambiare qua. La nostra idea è di mettere un vassoio dove mettere al meglio il prodotto. Il prodotto può cambiare magari, magari anche dopo diventa un negozio di abbigliamento. Perché no? Può funzionare anche in quella direzione. Questo è stato molto importante come concetto basilare. E poi ho visto che avete lavorato anche, non so, con concetti come la luce, che è importante. Questo l'abbiamo visto dall'inizio, no? Per trattare anche questa neutralità ci piaceva molto di non mettere pareti, di fare uno spazio molto aperto, che già dall'ingresso si vedesse anche il cortile che abbiamo lì, no? Che è pieno di verde. Questo è stato molto... Dall'inizio l'abbiamo capito. Questo non lo possiamo fare, non lo possiamo schermare. Quindi è una cosa che chiunque può ammirare e godere anche di questi spazi verdi. Sì, anche che è molto milanese allo stesso momento, no? Abbiamo il cortile, anche i materiali che abbiamo usato comunque sono sempre... Che appartengono a diverse zone. Magari dopo Matteo vi può parlare anche di quello. Appunto, i materiali arrivano da diverse zone, perché abbiamo parlato di un'azienda che ha quasi 50 anni di storia, che arriva dal Veneto. E quindi è un negozio, non è un negozio, è uno spazio, un plexi store in pieno centro a Milano, ma che non può trascurare le tradizioni, da dove le origini. E in questo spazio si vedono? Ce ne può parlare? In questo spazio si vedono il terrazzo, è un'invenzione veneta, i vari trattamenti di materiali, il marmorino, lo spatolato, sono tutte cose che vengono da quella zona. So che Roberto viene da Treviso, che è una delle città più belle del mondo, non solo d'Italia. Per quale motivo? Perché vive di materia, vive di matericità, che in questo caso non contamina la presenza, in questo caso di cucine, ma anche di altri oggetti che in futuro il gruppo Aeromobile presenterà. Quindi il dialogo tra contenuto e contenitore è il vero tema sul quale ci confrontiamo oggi. Giustamente Antonio dice, guai a vedere il linguaggio di uno studio, guai a vedere il linguaggio di un architetto, di un progettista. I progettisti, per esempio Roberto con le sue cucine, è lui che deve vendere, mica vendi lo spazio. E Antonio, questa ricerca di materiali con questo richiamo delle tradizioni, quanto è stato importante? Vabbè, molto, diciamo, come diceva Matteo, tutto questo seminato viene da lì, ma allo stesso momento è tipico delle case milanesi, borghesi. Allora abbiamo trovato questo punto di unione tra l'origine dell'azienda con la situazione dello showroom. Ovviamente l'abbiamo fatto in un modo molto più contemporaneo, anche molto più neutro allo stesso momento, cercando sempre colori molto gradevoli, nei colori troppo stridenti, al contrario, solo magari qualche accento, con questi colori che abbiamo dietro, che vediamo in questo momento, con questo ambra, che ci fa passare la luce, ma ci dà anche un tocco di colore. In una città come Milano la luce è la cosa più ricercata. Esatto. E poi diciamo che qui in Euromobile ci sono cucine, vediamo, ammiriamo bellissime cucine, ma la cucina, diciamo, il concetto di cucina cambia, perché rispetto alla tradizione, che aveva una funzione specifica, adesso la cucina è proprio un ambiente. Ci puoi raccontare com'è cambiato il concetto di cucina oggi? Ci sono tante cucine quanti esseri umani, ognuno vuole la sua cucina. Io vorrei dire una cosa che mi sta molto a cuore. La storia d'amore per Euromobile nasce da un concetto estremamente sano in quella zona che è value for money. Mi spiego meglio. Se spendo X per la cucina, devo spendere il giusto. Non posso spendere tanto quanto senza fare nomi, spendo per una casa intera. Ci sono aziende, con tutto rispetto, dove spendi per la cucina tanto quanto per una casa. Io invece credo che Euromobile è un'azienda che ha un grande futuro perché più che mai vogliamo spendere il giusto. Value for money. E rispetto all'ambiente, come una famiglia vive la cucina oggi? È cambiato? È cambiato perché la mamma lavora, il papà lavora, i figli sono a scuola se non c'è il virus in mezzo. Quindi la cucina sta diventando, pur essendo il centro della casa, un oggetto moderno, flessibile, che deve funzionare rapidamente nel suo cambio. Io credo che Roberto può raccontarlo molto meglio. Roberto può raccontarlo molto meglio, ma Roberto Gobbo ha firmato, disegnato, progettato delle cucine che noi vediamo qua in questo taggistore. Ce le può descrivere? Ce le può descrivere? Sì. Intanto vorrei dire che sono perfettamente d'accordo con Antonio, con cui ho già parlato altre volte, e con Matteo però non ce l'avevamo mai parlati, quindi i concetti che hai appena espresso sono pienamente condivisibili. Questo attaccamento alla cultura veneta, volevo anticipare ancora una cosa e poi vado alla domanda, si riflette anche nelle aziende. Le tre aziende del gruppo hanno solide radici nel Trevigiano e anche la filiera, ormai sappiamo, un'azienda che produce mobili è frutto di un percorso, di una filiera che parte a Monte con un gruppo di fornitori e poi a Valle nel punto vendita. Ha sempre avuto determinate caratteristiche, soprattutto in un periodo come questo dove la globalizzazione è stata messa a dura prova. Certi valori che l'azienda ha sempre ricercato hanno avuto insomma una grande prova di successo. Ecco, venendo alle cucine, prima Antonio parlava di neutralità e di assenza di partiture all'interno dello spazio. Proprio per questo concetto di neutralità che esprime ancora meglio quello che è il concetto che noi abbiamo e stiamo perseguendo oggi con le nostre cucine che nascono appunto da uno studio di progettazione interno all'azienda poi con la collaborazione di vari architetti e progettisti e che è quello del mobile che diventa architettura. Il mobile che può articolare lo spazio, che può dividere lo spazio. Oltretutto poi si parlava prima di come è cambiata la cucina oggi abbiamo la cucina diventata oltre che uno spazio per cucinare è diventata anche uno spazio di lavoro perché poi chi la frequenta o perché ci sono dei figli e quindi c'è la didattica a distanza per cui ormai la casa è tutto un home working home learning smart work ecco e le cucine che sono presenti in questo spazio la cucina che è nelle nostre spalle è la cucina 6 disegnata da Mark Sadler progettista con il quale l'azienda ha da diversi anni una collaborazione e poi ci sono altri due sistemi che si chiamano Telero e Antis che hai progettato tu che ho progettato io con l'azienda e i concetti di queste due di queste due cucine sono quelle di interpretare in maniera sintetica le due fasi che avvengono in una cucina che sia separata dal resto della casa o che sia a contatto con il resto della casa che sono la fase della preparazione del cibo e la fase della sua consumazione la fase della preparazione è ovviamente la cucina diventa un laboratorio quindi c'è disordine c'è caos perché ci sono ingredienti ecco questa come in un palcoscenico come in un set tutto questo deve cambiare velocemente per arrivare invece a quella che è la consumazione del cibo quindi a ricreare invece un'atmosfera che possa favorire la conversazione e il dialogo e in Telero e in Antis ci sono degli elementi che scorrono e quindi mi riferisco ad esempio a questo elemento che stiamo vedendo in questo momento che è un pannello che scorre o altri elementi che salgono e scendono e quindi lo scenario può cambiare velocemente e nascondere il disordine ecco quella che vediamo è un'anta la parte scura che scorre e non ha guide né a pavimento né a soffitto quindi si presta a essere collocata in qualsiasi spazio senza bisogno di intervenire fisicamente sullo spazio Euromobile il gruppo è molto sensibile all'arte made in Italy design arte e anche è molto sensibile ad essere vicino e ai giovani ci puoi raccontare quali iniziative rispetto a queste queste tematiche ha organizzato il gruppo in questi quasi 50 anni di storia tutto questo nasce dalla grandissima enorme passione che i fratelli Lucchetta hanno sempre avuto per il mondo dell'arte è una cosa che è cominciata piano piano frequentando artisti della provincia di Treviso e poi nel corso dei decenni possiamo parlare di un record in questo in questo momento qui vediamo la piramide del Louvre dove Grupero Mobile ha sponsorizzato una mostra di disegni di Leonardo e in questi decenni Grupero Mobile ha sponsorizzato o promosso o organizzato oltre 500 mostre in Italia e nel resto del mondo ma la cosa molto interessante è che non ha guardato solo a un certo periodo o a certi artisti ha guardato all'arte antica ha guardato all'arte moderna attraverso le mostre degli impressionisti le mostre su Van Gogh e guarda con molta attenzione all'arte contemporanea ma non solo ai grandi maestri ma anche ai giovani per 12 anni il gruppo Romobile è stato main sponsor di arte fiera a Bologna e durante questa fiera anche qui vediamo delle immagini durante questa fiera ha promosso un premio Under 30 quindi giovani che erano presenti all'evento alcuni di questi tra l'altro stanno rispondendo notevole successo nel panorama artistico internazionale e dunque abbiamo detto attraverso lo studio che ha progettato questo spazio che c'è uno spazio neutro ci sono i prodotti di Auromobile c'è anche del verde ma si terranno anche degli appuntamenti dentro questo Flexi Store ci puoi dire già cosa succederà si terranno degli appuntamenti ce n'era uno programmato che purtroppo non si è potuto tenere e infatti per quell'occasione è stata realizzata un'opera site specific dell'artista ormai italiano d'adozione che è Jorrit Tonquist Jorrit Tonquist è un maestro dell'arte contemporanea molti forse lo ricorderanno per il progetto cromatico del termovalorizzatore a Brescia che si vede lungo l'autostrada che è un progetto straordinario un monolite che dialoga con l'atmosfera ed è una cosa straordinaria perché non è nulla è una semplicissima forma e con lui c'era il programma ma questo è solo un evento rinviato poi naturalmente ci saranno presentazioni di libri d'arte presentazioni e di libri di design e c'è questa volontà di rendere questo spazio molto dinamico e molto fluido allora non ci resta che dare appuntamento a tutte le persone che vorranno visitare questo flash store che ufficialmente è stato inaugurato con questa presentazione e potrà venire qui dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 dalle 15 alle 19 e dunque potrà ammirare le cucine Euromobile ma anche gli altri prodotti del gruppo che sono Desiree e Zalf intanto io ringrazio moltissimo Matteo Tum per il suo prezioso contributo Antonio Rodriguez grazie e Roberto Gobbo per averci illustrato la storia di questa azienda grazie e l'appuntamento alla prossima volta e buona serata grazie 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 grazie